Ciao ragazze, questo è un video tutorial, vi è stato richiesto di fare un trucco molto semplice e naturale, spero di avercela fatta, spero di avervi accontentate. Il trucco è questo di qui, che ho adesso, è sui toni del marrone, quindi è abbastanza naturale, comunque non è molto carico, ho usato anche prodotti che potete trovare tutti, e niente, spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial, ci vediamo dopo, ciao! Grazie a tutti! 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 E niente ragazzi, questo è il trucco finito, spero che vi piaccia, spero che questo tutorial vi sia utile, adesso ve lo faccio vedere meglio, un po' più da vicino, spero che vi piaccia veramente, è un po' almeno per me, è abbastanza facile, non è molto difficile, non è molto difficile, spero che vi piaccia, spero che il mio video vi piaccia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!